Perché il gruppo musici sbandieratori dei sestieri di Lavagna è presente oggi a Chiavari? Allora, siamo qui per promuovere il nostro gruppo di musici degli sbandieratori dei sestieri di Lavagna e in particolar modo anche per sfatare la finta credenza secondo la quale bisogna essere di Lavagna per entrare a far parte del gruppo. Siamo aperti quindi a tutti i ragazzi che abbiano piacere a tamburare e a sbandierare e l'età minima di 14 anni. Tanti ragazzi, vediamo qua dietro, negli abiti, c'è un bel gruppo? Sì, siamo un bel gruppo, fortunatamente anche numeroso, siamo molto entusiasti e molto affiatati e cerchiamo nuove persone per ampliare sempre più. È una manifestazione aperta a tutti questa? Aperta a tutti, tutti quelli che vogliono provare, quindi ragazzi e ragazze, a partire dai 10 anni per gli sbandieratori. Noi abbiamo due sezioni, la sezione junior per i bambini più piccoli e poi i più grandi che usano le bandiere, diciamo quelle ufficiali a partire dai 14 anni. Stessa cosa, gruppo musici a partire dai 14 anni, ragazzi e ragazze. Siamo un gruppo molto variegato come età, perché arriviamo anche oltre i 30, diciamo. Ma quanto costa partecipare? È assolutamente gratis, siamo tutti volontari, quindi partecipiamo a manifestazioni sia alla Vagna, quindi la torta dei Fieschi, sia in giro per la Liguria e anche in tutta Italia. Devo farmelo da solo il vestito? Il vestito è dato in prestito dall'associazione, tutto quanto vi vestiamo dalla testa ai piedi. Chi fosse interessato ad avvicinarsi a questo gruppo come può fare? Chi è interessato può cercare su internet il nostro sito www.sestierilavagna.it, ci trova su tutti i social network, Facebook, Youtube, Instagram, quindi tutti i nostri contatti li potete trovare facilmente. E per le prove come funziona? Le prove si svolgono durante tutto l'anno, presso la palestra delle scuole Riboli di Lavagna, in orario prevalentemente serrale, di solito il giovedì e la domenica sera.